E' appena arrivato il postino e ha portato la nuova tessera sanitaria a mia moglie. Ma andiamo subito al dunque. Alla scadenza, se saranno confermate le condizioni per l'assistenza sanitaria, le verrà inviata una nuova tessera. Cosa vuol dire questa frase? Io sono ignorante come una capra. Mi potete aiutare? Lo scriviamo nei commenti? Quindi fate girare anche i vostri amici e conoscenti, che sono magari più intelligenti di tutti noi, che ci possono dare una spiegazione. Come certificazione di codice fiscale la tessera resta comunque valida anche dopo la scadenza. Certo, perché il codice fiscale, se non si cambia sesso, se non c'è stato un errore nel passato sulla data di nascita e sul luogo di nascita, è ovvio che rimane sempre il codice fiscale. Cosa vuol dire? Se saranno confermate le condizioni. Quali condizioni ci devono essere per continuare ad avere l'assistenza sanitaria? Vi volete svegliare o no?